e l'abbiamo incontrato nel 97 nel suo prime era infermabile venne il papà di Paolo che all'epoca era il nostro allenatore e mi fa oggi voglio vedere se questo è veramente forte o no Fabio faccio mister vediamo facciamo sta partita che alla fine finì 3 a 3 Italia-Brasile-Francia 97 io a fine partita di andare vicino e di sì mister è forte come dicono questo è forte 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 ma perché? perché noi eravamo dei bravi difensori eravamo discreti direi forti però questo non ci vedeva neanche noi gli facevamo il solletico quando andavamo addosso a lui noi pensavamo di essere forti ma lui era ancora più forte noi pensavamo di essere veloci ma lui era ancora più veloce grazie a tutti